Siamo stati privati di un'arteria nevralgica per la circolazione per troppo tempo. I residenti di Viale Europa e non solo, nei giorni scorsi, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo la riapertura della strada nei due sensi di marcia, dopo mesi e mesi di disagi per la viabilità. La circolazione era stata interrotta nel mese di agosto 2021, al fine di consentire i lavori di collettamento reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno, a cura della ditta incaricata dalla Gori. Gli interventi che dovrebbero terminare nel 2023 sono stati finanziati per 35 milioni di euro dalla Regione Campania. Si tratta di avanzate soluzioni ingegneristiche per convogliare i reflui dagli attuali impianti di San Giuseppe alle Paludi e Villa Inglese, fino all'esistente collettore in galleria di Torre Annunziata e da questo fino all'impianto di depurazione di Foce Sarno nel comune di Castellammare di Stabbia. Tuttavia, dopo la riapertura di Viale Europa, stando alle segnalazioni dei cittadini, restano i disagi per altre problematiche da affrontare e risolvere. I residenti chiedono interventi di disinfestazione e derattizzazione, senza contare le famose erbacce che invadono i marciapieni.